salve amici buon sabato a tutti ciao Claudio come stai tutto bene ciao ciao bene bene buon sabato a tutti anche da parte mia come siamo fedeli all'appuntamento eccoci qua io sono un po malinconico oggi sono un po malinconico perché mi sto guardando intorno e sto vedendo che ci sono un po delle persone diciamo che a casa mia mia madre mi diceva apri bocca e dalle e dalle fiato nel senso che aspetta quei cinque minuti prima di parlare invece non l'hanno aspettato Nicola morra presidente della commissione antimafia che con il suo naturale modo di fare lui parla sembra che sia oracolare quando dice delle cose ha detto delle cose a proposito della defunta presidente della calabria che sono state al centro di un grave dibattito e tutti si sono ribellati di fronte alle sue parole però i lettori giudicheranno se sono da una parte o dall'altra anche sono rimasto smarrito di fronte alla alla osservazione di andrea crisanti no questo professore questo professore che è un parassitologo eh che è direttore di microbiologia e virologia all'università di Padova il quale così tanto per aprire bocca e darle fiato ha detto vabbè io tanto il vaccino non non me lo farò perché devo essere sicuro eccetera come se a un certo punto non sapesse che se viene messo sul mercato un vaccino lo viene messo sul mercato dopo che che ha superato l'esame degli organismi di controllo internazionale in ogni modo c'è un momento un momento di confusion come diciamo tante volte abbiamo detto noi due tante volte ma c'è anche una un momento in cui c'è un contrasto tra l'apparire e l'essere per apparire non so si fanno tante cose per l'essere uno è fa tante cose e poi naturalmente non appare e se ne approfittano quelli che colgono l'essere e che li fa apparire in ogni modo tu da che parte stai tra quelli che appaiono o tra quelli che sono eh ma dunque dunque questo è un vecchio dubbio essere o avere no dei tempi di front che ci aveva tormentato molto e anche fatto pensare anche fatto parlare io sono arrivato alla conclusione che la giusta mistura sarebbe tra essere e avere ecco non sono tanto d'accordo su quello essere o avere se fosse invece essere e avere nel senso che una giusta commissione avere per essere non essere per avere però ecco ci tengo a precisare questo ordine avere per essere potrebbe essere una buona linea perché eh rivela una una saggezza di fondo che significa usare i mezzi per un disegno eh un disegno virtuoso cosa che invece adesso questo in questo momento sembrerebbe il contrario perché ci sono delle testimonianze un po' inquietanti che vanno dal veto di Polonia Ungheria come abbiamo l'avere tramite l'Europa però ora non riusciamo a essere sono delle cose veramente inquietanti eh però siccome io ti invito tu hai esordito dicendo che sei un po' malinconico ti invito al sorriso citando chi ma citando il nostro Papa Francesco il quale da tre giorni è assisi per fare un convegno i tre giorni appunto sull'economia internazionale 125 paesi connessi web online e tutti gli appuntamenti che si fanno adesso sul tema dell'economia quindi si fa piacere questo questo è un essere avere ecco un esempio di essere avere per esempio lì ci sono i mezzi per fare le cose e la volontà di essere perché essere in 125 paesi con delle riflessioni sull'economia oggi un'economia che va ripensata più virtuosa più inclusiva eccetera eccetera per me è un esempio splendido dell'avere per essere ecco quindi eh sono proprio curioso di aspettare le dichiarazioni finali di questo convegno perché sarà molto interessante sentire che cosa hanno fatto e che cosa hanno detto su questo nuovo volto dell'economia sì questo nuovo volto dell'economia però l'economia ci insegna che si parla tanto si fanno tante teorie poi dal nel passaggio tra la teoria e la pratica ehm le strade le strade sono molto molto tortuose e molto spesso anzi troppo spesso eh l'economia non passa alla pratica eh di chi teoricamente meriterebbe eh di avere un supporto economico ma la pratica va sempre a rifinire nei soliti rivoli ehm cioè eh c'è un un una un bisogno e un'assenza da troppo tempo dei cosiddetti tale scout li definisco io nel mondo dell'economia cioè di coloro uguali si assumano delle responsabilità eh nel nell'individuare eh chi merita di più e chi merita di meno sì si può dire ci sono le start up ma se poi vai a guardare tutte queste start up sono start up che poi gratta grappa sono start up che vengono fuori da qualche cosa che già preesiste eh io vorrei invitare chi si occupa di economia di darsi veramente un'occhiata intorno e di avere la forza di assumere delle reali responsabilità e le reali responsabilità nell'economia vuol dire eh avere la capacità di assumersi dei rischi dei rischi calcolati ma dei rischi e invece ehm a me pare eh che si tenda ad andare sempre sul troppo sicuro sì purtroppo quello che dici è è vero è vero inutile fare dell'ottimismo così gratuito la speranza sì l'ottimismo è un altro discorso quindi deve essere un po' sostenuto da fatti di quei fatti che tu dici mancano ed è vero però diciamo la speranza è l'ultima morire eh se vogliamo eh tornare a un discorso che abbiamo già fatto che è quello che tutti noi o chi ha delle idee deve veramente farsi avanti in questo periodo mettersi in mostra ecco quindi apparire oltre che essere eh e credo che questo sia un compito non facile del del contagiarsi in senso positivo dell'andare a mettere le mani su quei filoni trainanti che certo eh sappiamo benissimo poi nella realtà come si muovono le cose però io credo che ci sia in vista una nuova ripresa saltano fuori dei contributi dei soldi dei fondi delle cose che bisognerà tener d'occhio prima che spadiscano però sta a noi tutti eh essere molto vigili nel nostro piccolo e cercare di mostrarsi mostrare il nostro essere il nostro avere proprio sul mercato nelle nelle nuove iniziative nelle nuove idee quindi eh è vero che non è facile perché detto questo tutti fanno propaganda di tutto poi in realtà quando metti il dito sulla piaga a cominciare dal famoso 110 le case è tutto facile poi in realtà non voglio non voglio dire che cosa potrebbe succedere ma potrebbe succedere per essere ottimisti vedi io io do un contributo positivo oggi non so se vedi con la cravatta qualcosa quindi mi sto mi sto non dico positivizzando non lo dico non mi piace questa parola mi sto sforzando di vedere anche le cose buone per esempio un'altra figura dopo aver detto del papo del suo convegno economico devo citare mi fa piacere citare Obama che ritorna in scena nel suo giusto ruolo un po un po di viguro di scrittore di consulente internazionale adesso col suo libro promised land è anche una scusa per tornare in scena come possiamo dire eminenza grigia rispetto a Biden che comunque è stato nella sua squadra che sta riarruolando gente fidata dei bei tempi e questo non può che facci piacere facci speranza con un Trump che continua a dire che lui ha vinto continua a dire che ha vinto lui e tutti i vari stati continuano a dire ok le elezioni sono state fatte bene ok ok lui dice che ha vinto e fa queste manifestazioni con anche gente armata che sfila a Washington le cose veramente da Mel Brooks Mel Brooks io credo che è lì che finirà Trump a fare i film insieme a Mel Brooks perché ha veramente delle idee cinematografiche eccezionali sì però Obama Obama ci racconta di cose di cose passate è molto intrigante tutto quello che dice sono molto importanti le riflessioni di un personaggio come Obama sarà molto importante vedere poi come Obama concretamente riuscirà a influire sul sugli anni futuri degli Stati Uniti ma tu hai lanciato una visione un attimo di futuro facciamo un gioco improvvisiamo un gioco noi i nostri dialoghi li abbiamo sempre completamente improvvisati non abbiamo delle scalette scritte come tanti fanno che sproloquiano dalla macina alla sera per cui facciamo il gioco tu come vedi concretamente il futuro del coronavirus dai cioè quando ci saremmo vaccinati quando tra un paio d'anni perché non prima di un paio d'anni diciamo ritorneremo ad avere il controllo della nostra della nostra salute a meno che non intervengano altre epidemie altre pandemie in ogni modo quando si ritornerà alla cosiddetta normalità ci sarà la solita Italia che abbiamo lasciato prima dell'epidemia o cambierà qualcosa in questo senso che cosa vorresti che cambiasse? Ma questa è una domanda veramente impegnativa perché richiede sia un po' di veggenza che di particolare buonsenso che di particolare conoscenza dei megatrend quindi non è facile rispondere però è facile rispondere se uno cerca una risposta molto terra terra molto nella nostra quotidianità e il futuro viene disegnato da noi oggi oggi e domani per un subito un esempio concreto vediamo cosa siamo capaci di fare col Natale perché se il Natale se apriamo tutto per fare lo shopping natalizio poi chiudiamo subito dopo perché facciamo un altro blocco perché siamo tutti spaventati dei casi che ricominciano che adesso sembrano un po' scemare allora è una recita che gioca contro di noi continuiamo a fare autogol forse ecco la speranza e l'augurio di smettere di fare autogol perché certamente ci sono delle cose concrete per dirne una la la adesso c'è la stagione invernale del turismo e allora uno dice stiamo tutti a casa non si va a nessuna parte benissimo però sappiamo che sono già solo pensare alla neve ci sono 60.000 posti di lavoro che saltano e questo è tremendo però allora andiamo tutti sulla neve così poi a febbraio siamo tutti a fare la coda agli ospedali alle cliniche specializzate eccetera questo questo bisogna essere siamo noi a decidere è inutile aspettare aspettare che qualcuno lo decida per noi quindi il gioco vediamo cosa siamo capaci di fare a Natale se proprio per fare il cenone vogliamo rigiocarci la salute il futuro ma non il futuro ci giochiamo il futuro ecco questo per esempio ma è un primo step ci giochiamo il futuro d'accordo sono perfettamente d'accordo ora sembra sembra prima c'era ferragosto ora c'è in Natale ci sono delle cose o poi c'è la la settimana bianca ci sono tutte delle cose che sono assolutamente irrinunciabili se per un anno rinunciamo alla settimana bianca eccetera però stiamo tutti bene e vabbè mi sembra che il gioco valga allora però quello che io mi chiedevo lasciamo da parte tutte queste stupidaggini per cui se accadono queste stupidaggini di comportamenti andremo a rifinire tutti agli ospedali e e finiremo la storia delle nostre esistenze ma pensiamo a quello che potremmo costruire dopo superate tutte queste stupidaggini sopravvissuti a queste stupidaggini che tipo di società ti immagini la replica della società che abbiamo lasciato o che cosa ci potrebbe essere di nuovo ma io io che cosa potrebbe esserci giuro che non riesco a vederlo chiaramente che cosa potrebbe esserci che cosa dovrebbe esserci questo è più facile da immaginare e anche più facile da dire che cosa dovrebbe esserci dovrebbe esserci una società più consapevole una società che riduce i momenti di happy hour e che invece aumenta i momenti di impegno culturale sanitario sociale se questo covid ci ha portato a parte gli spaventi a parte i funerali a parte i disastri se ci ha portato un passo avanti di sul piano della consapevolezza allora ha lasciato qualcosa anche di eredità però come tutte le eredità e l'abbiamo visto vedendo le grandi famiglie imprenditoriali cosa scome sono finite certe eredità male perché se gli eredi sono degli stupidi degli scialoni degli incompetenti che amano solo comprarsi le barche potremmo qui fare degli esempi caro luciano non ti invito a fare gli esempi che so che può fare imprenditori che hanno preferito prendere la barca vela e far saltare a gambe all'aria delle case editrici ma io potrei dire la mia ma non stiamo qui a dire ciò eh e quindi se l'eredità verrà gestita bene da tutti noi da tutti io ritorno sempre al singolo individuo io sono convinto che noi singoli individui abbiamo un nostro potere di ridisegnare il futuro giorno per giorno già da casa nostra pensavo proprio oggi alla faccenda del del raduno dell'economia di papa Francesco minuti mentre quella grande materia che si faceva che facevano le ragazze non i ragazzi ma è sbagliato pure i ragazzi che era l'economia domestica ti ricordi c'era questa materia l'economia domestica e da lì che parte non è cambiato niente c'erano c'erano le nostre nonne le quali le quali ci avevano un libro di casa dove tutti i giorni uscendo di casa facendo la spesa segnavano anche le le i pochi centesimi che avevano speso per comprare un panino però alla fine dell'economia c'era c'era a questo punto bisognerebbe ritornare a quel a quel punto a quel punto di competenza di consapevolezza di consapevolezza di consapevolezza e la vita comincia da lì si comincia da lì la vita non è non è un un gioco o ritornare ritornare ad essere per chi è genitore ad essere genitori che non fanno gli amici dei loro figli ma fanno giusto giocatori dei loro figli bisognerebbe tornare a genitori i quali insegnano innanzitutto ai loro figli che qualsiasi professione qualsiasi mestiere non nasce così per improvvisazione ma alla base una grande 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 preparazione studio c'è apprendistato in ogni tipo di attività tu vuoi fare l'avvocato prima fai l'apprendista avvocato vuoi fare il giornalista prima fai il praticante giornalista in ogni modo da questo nasce la consapevolezza di quella che è la professione che tu fai non dall'improvvisazione dall'improvvisazione che è venuta fuori negli ultimi tempi negli ultimi anni negli ultimi movimenti politici e poi la politica non è un rifugio un peccatorum per riuscire ad avere finalmente un posto di lavoro e un buono stipendio la politica a quel lato di missione di 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 lavorare per l'interesse collettivo che mi sembra che molti troppi abbiano dimenticato molto vero speriamo che ritorni per riassumere una parola l'etica 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 e per essere più modesti bisogna tornare bisogna ripensare agli stili di vita i nostri stili di vita ma non i mega stili i mini stili i nostri a casa nostra noi dobbiamo improntarci tornare a fare un po le formichine le formichine sagge col risparmio della briciolina questo dobbiamo fare questo è il modo per salvarsi e crearci un futuro ancora dobbiamo ricrearci ricreiamocelo che problema c'è basta rinunciare a delle cose inutili totalmente inutili anzi direi anche dannose per cui rifacciamo le formichine bene io ci sto e se vuoi sapere di più mi piace perché è un modo per tornare giovane perché è un modo per ridisegnare un futuro lungo corto che sia però io forse un po' ce l'ho e me lo voglio tenere caro e ritorno a fare la formichina ma lo sai qual è un grosso problema molto italiano per riuscire a fare delle cose nuove è quello del cosiddetto individualismo della convinzione di troppi italiani che uno da solo riuscirà a fare tutto a sconfiggere tutto c'è questo mito del supereroe in tutti i campi io da solo vincerò e invece siamo in una società quando siamo in una società globale come ormai è la nostra e il fatto che viviamo in una società globale non lo cambierà neanche dopo coronavirus in Italia il limite di trasformare dalla radice certe cose è quello dell'incapacità che hanno troppi molti quasi tutti ad unirsi a collaborare a creare dei team per portare avanti dei progetti di interesse comune no ognuno vuole replicare lo stesso singolo singola modalità di progetto che da solo non andrà da nessuna parte l'unione è una banalità dovrebbe fare la forza ma non si fa unione lo so io lo vedo lo vedo editorialmente parlando sono anni che invoco di unirsi tra tante piccole case editrici per cercare di fare squadra e costruire una grande gruppo un grande gruppo editoriale con una molteplicità di voci e di progetti e di cataloghi niente non ti ascolta nessuno tutti da soli disperatamente e allora sono diventati degli accattoni di pagamento dagli autori che vogliono essere pubblicati oppure sono diventati i cosiddetti editori ambulanti cioè quelli che per vendere due copie di un libro si fanno dalla mattina alla sera tutti i mercati le fiere le fierette le fierine per vendere quattro copie perché non hanno neanche i soldi per potersi concedere una distribuzione nazionale la quale distribuzione nazionale è soltanto nelle mani ed utilizzata da grossi e consolidati gruppi editoriali tutto qui questo è un piccolo esempio di mille altri esempi che si potrebbero fare in italia in mille altri settori certo certo quello che tu hai detto è proprio l'esempio che io auspicavo di sentire o di fare ma l'hai fatto tu e va benissimo molto concreto in un settore specifico che è quello che tu conosci bene e che meriterebbe di camminare quindi il fatto di parlarne per esempio è la strada giusta per andare per procedere su questa strada comunicare un progetto e non stancarsi di farlo e cominciare a raccogliere una barra due barra tre aderenti a un progetto e camminare insieme su questa strada diciamo che tu questo l'hai già fatto e io ti invito a rifarlo a continuare perché tu nel tuo settore sei proprio l'esempio che auspicavamo quando parlavamo prima in generale è un metodo è una strada una strada su cui camminare certo bisognerebbe avere poi delle soddisfazioni dei ritorni però ti dico solo una cosa adesso si parla ma anche a livello appunto di livello di costituzione che dovrebbe essere inserito come diritto il diritto a internet il diritto garantito per tutti a internet quindi riguarda principalmente i giovani ma non solo perché adesso tutti si stanno muovendo su quella strada internet web il digitale eccetera eccetera siamo ancora indietro tu lo sai meglio di me come indici in Italia siamo ancora indietro tant'è vero che l'istruzione a distanza è zoppica un po' perché dovrebbero tutti avere il computer eccetera eccetera quindi è tutto un territorio vergine da camminarci dentro da disboscare da creare quindi tu lo sai e ti invito a continuare non farti prendere dalla eh negatività o dalla depressione dei sei sei leader in questo campo continua a esserlo non stancato guarda la gabanelli le settimane scorse sai la gabanelli che è una giornata molto scamba sul corriere della sera ha scritto che il trentanove per cento degli italiani non hanno la possibilità di riconnettersi in internet non si connettono in internet e questo te la dice nulla non lunga sull'improvvisazione eh di e dell'Italia in cui da mesi si sta parlando tanto di scuole a distanza di connessione a distanza di smart working e roba del genere quando c'è il trentanove per cento degli italiani che non ha né un computer non hanno le connessioni o roba del genere e questo è un grande esempio di super improvvisazione che dire sai ecco tu mi dici non è non essere depresso non sono depresso sono sempre più realista sono anche realista di fronte a voci sai eh gli spettacules ci sono in Italia mi è giunto uno spettacoles che addirittura c'è un piccolo editore il quale per anni è andato a dire nelle fiere mentre io producevo 87 titoli per la libreria e centinaia e attualmente oltre mille titoli per eh per il digitale che io ero un editore incompetente e capisce e capisci di fronte di fronte a tutte queste realtà in cui tu ti confronti o attraverso eh le calugne o attraverso attraverso eh quelli che vorrebbero che vorrebbero non vederti più in circolazione non puoi fare altro che tirare una somma e dire due più due fa quattro eh io mh sono online dal millenovecentonovantasei molte delle cose che oggi molti scoprono in internet le ho scoperte dal millenovecentonovantasei poi sono lieto che molte cose che mi è capitato di fare online per la prima volta per primo in assoluto rispetto a tanti altri che sono arrivati dopo le abbiano replicate e le stiano replicando vorrei che perlomeno perlomeno non si facesse eh quella eh quel solito giochetto del del furbo eh io non voglio fare la gara ad essere arrivato prima ma vorrei in questo caso faccio un po' fishing per compliment per vorrei essere riconosciuto per essere quello che ha aperto certe strade ma nessuno me le riconoscerà anzi mi riconosceranno la mia utilità per aver dato visibilità a chi in realtà autori eccetera non l'avrebbe mai avuta ma non importa la vita è fatta di grandi piccole eh amarezze e per una persona che è molto sensibile come me eh contano molto le sfumature e le delle sfumature nessuno ne parla più ormai ma eh ti dirò che la carta di identità comunque ancora un suo valore quando uno come te ha un catalogo con mille cento titoli che sono lì da vedere tutti possono vedere e comprare quindi mi sembra che è la miglior carta di identità del lavoro fatto in questi anni e della posizione eh che hai raggiunto come dicevo prima con un pacchetto di titoli e di categorie perché dentro tu hai creato dai dal turismo eh agli animali alla gastronomia alla cultura che sono quelle che poi ti hanno dato forse anche più soddisfazioni con personaggi di notevole peso ecco basterebbe che eh la gente andasse a vedere il tuo catalogo e e lì non c'è altro da dire se non l'ammirazione di una persona che è riuscita ovviamente in anni e lavorando in prima persona come hai fatto tu perché tu hai acquisito un know how che pochi oggi in Italia hanno radunato in un professionista solo perché sei in grado di fare l'ebook da solo anche se poi non puoi farlo devi avere i tuoi grafici i tuoi esperti del digitale tra l'altro ricordo per chi non lo sapesse che proprio la Simonelli Vittore sono nati delle eh dei perfezionamenti tecnologici che hanno fatto laureare dei giovani esperti eh proprio lavorando e sperimentando in ambito di Simonelli Vittore delle delle tecnologie di avanguardia che poi forse non tutte le grandi piattaforme hanno ecco quindi anche questo è un aspetto importante per cui mi sembra se ho capito bene che c'è perfino una università che mi ha proposto di fare dei test in università insomma non non mi farei troppo abbattere sul piano personale eh perché hai delle belle carte delle belle frecce all'arco che certo vanno tirate ecco ti invito a essere più arciere più arciere di prima tu dovresti ogni giorno fare un'ora di arciere cioè ti metti a lanciare frecce nel mondo nel magico mondo editoriale commerciale digitale semplicemente forse per farti conoscere di più e fare proposte che possono essere molto allettanti per degli investitori molto allettanti quindi speriamo che che questa paura di tutto passi e qualcuno comincia a vedere in giro cosa c'è di buono e ti trova se ti c'è se cerca queste cose quindi sono fiducioso sono fiducioso ma speriamo speriamo uno sport molto molto praticato in italia soprattutto nel mondo culturale editoriale è stato da sempre il silenzio basta non parlare e allora si cancella come il bambino che chiude gli occhi di fronte alla realtà che non gli piace se tu sei uno di quei personaggi che non piaci eh chiudono gli occhi non parlano mai di te eh però c'è una piccola particolarità ormai ci sono i social c'è la rete se tu vai a digitare il nome e il cognome mio o della casa editrice eh della casa editrice prova a vedere su google quante occorrenze vengono su quante pagine e quello è sono il segno della dell'esistenza in vita eh di una realtà comunque chiudiamola qui il tempo anzi siamo andati un pochino lunghetti eh il tempo di queste riflessioni eh pandemico e post pandemiche eh sta scadendo eh io ti saluto saluto gli amici eh arrivederci al prossimo sabato eh che mi ti dici come saluto ma come saluto dico arrivederci ci fa piacere darci questi appuntamenti e ci sono delle ricorrenze che mi ero segnato come ex eh storico quando sono stato a storia illustrata per molti anni ma adesso i minuti sono preziosi allora dirò che comunque tra le ricorrenze metterei metterei anche la ricorrenza di Simonele Vittore che mi sembra che tu hai festeggiato hai superato i venticinque anni di attività no? Se non sbaglio è giusto? Sì sì e quindi non è non è poco non è poco quindi allora festeggiamo anche questa ricorrenza eh e le altre le dirò la prossima volta perché questa mi sembra molto importante visto che noi ci stiamo lavorando da tempo e vogliamo anche avere un ritorno affettuoso a presto allora invitiamo sempre i nostri ascoltatori lettori a darci un ritorno non solo sul piano privato ma dico sempre quando facciamo i video party così è anche l'occasione per essere presenti e dire la loro ci fa piacere. A presto allora. Sempre benvenuti. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao.